Lo dico senza mezzi termini, Rinaldo Melucci, i suoi collaboratori, i vari assessori, parecchi uffici tecnici non se ne fottono un cazzo di Taranto, non se ne fottono un cazzo. Perché questa rabbia? Vi spiego subito. Mi trovo in via Bruno, proprio a pochi passi dall'ospedale sullo stesso marciapiede del Mediterraneo Village. Da mesi e mesi questo palo è abbandonato qui, nonostante le centinaia, centinaia di segnalazioni che stanno facendo i cittadini, le decine e decine e decine di segnalazioni che ho fatto e sto continuando a fare, le mail, le PEC, ogni tipo di comunicazione. Questa è un'amministrazione che non se ne fotte nulla di voi cittadini, l'avete capito o no Tarantini? È così difficile rimuovere un palo? Ma questo rappresenta un ostacolo, rappresenta un pericolo, oltre che una brutta immagine, un danno per il decoro urbano. Ma lasciamo perdere il decoro urbano, cosa devi recuperare più qui? È tutto indecoroso a Taranto, è anche indecoroso il modo di amministrare la città come stai facendo tu, caro Melucci, tu e i tuoi cortigiani che hai a fianco, ma è possibile in una città normale? Qui c'è gente, ci sono anche anziani che rischiano di cadere, è così difficile rimuoverlo? Quando un'amministrazione non riesce a garantire il minimo, parliamo di un intervento ridicolo, banale, un camion prende il palo e se lo porta via, hanno pulito, hanno potato gli alberi, hanno potato gli alberi, quindi la possibilità materiale, tecnica di rimuoverlo c'era, perché arriva il camion che ha trasportato, ha caricato tutto il fogliame, tutto il legname, i rami, a questo punto prendi il palo e te lo porti, no, il palo rimane qui. Questo servizio che ho fatto oggi potrei tranquillamente archiviarlo, tra quattro mesi lo ripresento, tra tre mesi lo ripresento, non è cambiato nulla, rendetevi conto cittadini, da chi siamo amministrati, anzi da chi non siamo amministrati, scusate lo sfogo, ma a vedere una cosa del genere, in pieno centro, in una zona ultra trafficata, perché purtroppo la gente è costretta anche ad andare in ospedale, qui c'è una piscina, quindi il Mediterraneo Village, quindi una zona trafficata e non rimuovi il palo, ma levatevi dai coglioni una volta per sempre, cari amministratori di Tarno, levatevi proprio da mezzo, perché siete solo capaci a fare danni e null'altro.